Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Da oggi ogni 24 maggio sarà la giornata di lutto nazionale per ricordare le vittime dell'alluvione in Emilia Romagna. Come vedete da questa foto anche gli edifici pubblici dell'Aretino sono stati listati a lutto e anche il personale delle misericordie della Toscana e del territorio Aretino sono impegnati all'interno della colonna mobile nazionale e di quella della regione toscana. Proprio per dare supporto alle popolazioni colpite dall'alluvione sono oltre 26 mila ancora i cittadini sfollati. Le misericordie finora attivate nell'emergenza e arrivate dal territorio Aretino sono quelle di Arezzo, Pieve Santo Stefano e San Giovanni Valdarno. Purtroppo il maltempo non molla la presa. Già ieri nel territorio Aretino si sono avuti alcuni disagi e dei piccoli allagamenti che per fortuna non hanno creato importanti criticità per delle vere e proprie bombe d'acqua che sono cadute soprattutto nella Val di Chiana. Ma per le prossime ore la sala di protezione civile della regione toscana ha emesso un codice giallo appunto per allerta temporale. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti esteso a tutta la regione toscana con validità dalle 12 alle 22 di giovedì 25 maggio. Malgrado il consolidarsi dell'alta pressione persistono sulla Toscana condizioni di locale instabilità dicono gli esperti con temporali forti in particolare nelle aree interne del centro sud. L'instabilità sarà soprattutto durante il pomeriggio con rovesci e temporali sparsi localmente forti dicono gli esperti più probabili e frequenti nelle zone centro meridionali possibili anche colpi di vento e grandinate. Le aree che dovrebbero essere maggiormente interessate sono le province di Siena, Arezzo e Firenze. All'indirizzo www.regionetoscana.it slash alerta meteo ulteriori dettagli e i consigli sui comportamenti da adottare a seconda del rischio in cui uno si trova. E dall'inizio dell'anno sono già sette gli eventi estremi tra bombe d'acqua, grandinate, gelate, trombe d'aria che stanno mettendo in ginocchio l'agricoltura anche in Toscana. Dirlo è proprio con gli retti Toscana sulla base dei dati dell'osservatorio nazionale Città-clima, secondo cui gli eventi estremi sono aumentati a cavallo tra il 2022 e il 2021, addirittura del 150%. Sono le gelate del mese di aprile, sono costate care a 170 imprese agricole, secondo una prima mappatura proprio della regione toscana, con più di oltre 8 milioni di euro. In provincia di Arezzo sono state maggiormente colpite in Valdichiana le produzioni di frutta. Sul lato invece della cronaca, parlando in questo caso degli attivisti di ultima generazione legati comunque ai cambiamenti climatici, c'è anche una ragazza retina, BP le sue iniziali, tra coloro che hanno dato vita alle proteste dei giorni scorsi a Roma nella capitale, prima con un tuffo nella fontana di Trevi, poi nella giornata di martedì 22 maggio davanti al Senato della Repubblica, cospargendosi di fango. Quest'ultima azione è arrivata dopo che i giovani manifestanti avevano provato a spruzzare acqua con gli estintori contro le mura di Palazzo Madama. E veniamo invece alla cronaca in terra a retina, ci spostiamo in questo caso ad indicatore, alle porte di Arezzo, dove ieri intorno alle 21.30 è stato soccorso un trentenne con dei tagli all'addome. Ancora è tranquilla, ma ultimamente comincia a essere un pochino pericolosa, ci sono dei punti che non sono tanto validi da considerare, perché c'è un po' di delinquenza anche qua. Erano da poco passate le 21.30 quando è partita la richiesta di soccorso un giovane con gravi ferite di arma da taglio. A chiamare il 112 è stato lo stesso aggredito un uomo di 30 anni. Ad indicatore frazione alle porte di Arezzo sono così intervenuti i soccorritori. Ultimamente sono stati alcuni fatti poco piacevoli, successo l'accontellamento, l'incidente, strade pericolose. L'uomo è stato trovato sanguinante su questa panchina della fermata dell'autobus con ferite lievi al collo e alle braccia, lesioni invece più gravi quelle all'addome. Il trentenne è stato intubato e trasferito in codice rosso all'ospedale San Donato di Arezzo, dove nella notte è stato operato. Non sarebbe in pericolo di vita. Allertata anche la polizia di Stato ad indagare la squadra mobile che sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Ancora nessuna traccia dell'aggressore, da chiarire poi anche movente ed arma utilizzata. Si penserebbe ad un regolamento di conti nell'ambito dello spaccio di stupefacenti, ma gli inquirenti non escludono nessuna pista. Il trentenne era già noto alle forze dell'ordine per reati di droga. Sappiamo che esiste un po' di spaccio, io non ho elementi per poter dire se è collegato, ma potrebbe. Solamente qualche giorno fa un'altra aggressione a Campo di Marte, per la quale è stato denunciato un 25enne. I cani antidroga sono stati impegnati dal personale della Guardia di Finanza di Arezzo, che ha effettuato dei controlli nei pressi proprio di Campo di Marte e della stazione. È stato poi anche denunciato un pusher, controlli poi estesi anche al mercato settimanale, dove i finanzieri hanno sequestrato diverse centinaia di merci contraffatte. Ci dice tutto Chiara Sadotti. Controlli a tappeto ad Arezzo da parte degli uomini della Guardia di Finanza, che hanno impiegato anche le unità cinofile del primo nucleo operativo metropolitano di Firenze, in particolare nella zona di Campo di Marte, dietro alla stazione ferroviaria. I controlli erano finalizzati soprattutto a contrastare il giro di spaccio e consumo di droga, che in questa zona è stato segnalato dalla cittadinanza. Grazie all'aiuto dei due cani antidroga, Ebril e Jeremy, sono stati sequestrati circa 20 grammi tra ascisce e marijuana trovati all'interno di indumenti o zaini delle persone controllate, dieci poi soggetti segnalati alla prefettura di Arezzo per il possesso di modiche quantità di stupefacenti, tra questi anche un minorenne. Una denuncia invece è scattata per un uomo individuato, sempre a Campo di Marte, che alla vista dei finanzieri si è dato alla fuga. Dopo un brevissimo inseguimento è stato fermato e perquisito. Addosso aveva due involucri di plastica contenenti marijuana. Per lui è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza pubblico ufficiale. I controlli si sono poi estesi anche nella zona del mercato cittadino, dove i finanzieri hanno sequestrato oltre 1800 articoli contraffatti. Rifiuti del drive-thru, lo ricorderete, era il periodo del Covid dove le persone facevano la fila per effettuare i tamponi. Un medico e tre sanitari vennero accusati all'epoca, parliamo del 29 ottobre del 2020, di aver lasciato in custoditi alcuni rifiuti sanitari pericolosi. Adesso sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Hanno dunque potuto tirare un sospiro di sollievo proprio i sanitari retini accusati appunto di aver abbandonato nel suolo pubblico dei rifiuti pericolosi. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, quello delle dimissioni di Franco Scortecci dal ruolo di amministratore unico di Coingas. La notizia è stata resa nota dal sindaco Alessandro Ghinelli che ha diffuso anche una nota ufficiale prendo atto delle dimissioni, dice di Franco Scortecci dal ruolo di amministratore unico di Coingas, società che negli ultimi anni ha guidato con responsabilità ed equilibrio. A lui va il mio ringraziamento per il lavoro fin qui svolto e per la fermezza con cui ha guidato l'azienda nel momento più delicato e più burrascoso quello che ha coinciso proprio con il tempo delle indagini e del processo da cui peraltro Scortecci è stato assolto una capacità di impresa e di gestione che ha consentito di raggiungere con l'ultimo bilancio un eccellente risultato economico con ricadute positive a favore di tutti i soci. Ci spostiamo adesso invece a Cortona dove riapre il parcheggio di piazza del mercato dopo l'intervento di riqualificazione, un polmone importante soprattutto per l'arrivo dei turisti e insomma con la bella stagione, almeno tutti lo speriamo, alle porte. Sentiamo il sindaco Luciano Meuri. Si parla di riqualificazione del territorio, in questo caso si parla del mercato vecchio, una zona che davvero era in degrado con situazioni di criticità e abbiamo investito 180 mila euro per fare un nuovo parcheggio, ma sarebbe riduttivo dire questo perché abbiamo fatto un'area di decoro perché ci sono passaggi pedonali in pietra. Un altro marciapiede in più collegato allo stesso progetto che prevede il tratto di marciapiede appunto tra la chiesa dello Spirito Santo e via Guelfa per dare maggior sicurezza ai pedoni. Nuovi disegni dei stalli e quindi dei parcheggi con evidentemente 30 posti auto in più tra la zona interessata dal cantiere e il vecchio parcheggio. Quindi siamo davvero soddisfatti. Massimo decoro, abbiamo anche più verde rispetto a prima, un vero giardino davanti a Porta Bifora che così chi arriva a Cortona potrà assaporare diciamo così il decoro di una città che merita questo. Arezzo TV, media partner dell'ultima giornata, della giornata conclusiva dell'evento organizzato dall'Associazione Nazionale Vittime di Guerra che arriva appunto a conclusione di una serie di incontri che l'associazione ha tenuto all'interno degli istituti superiori della provincia di Arezzo. La manifestazione verrà diffusa attraverso i nostri canali social in diretta e poi riproposta all'interno della nostra programmazione. Sentiamo. Bisogna parlare di pace e allora i nostri giovani che noi abbiamo in tutte le scuole ascoltato si è parlato solo di pace. La guerra deve essere finita ma soprattutto portare la memoria sempre avanti. Sensibilizzare le giovani generazioni ai temi della pace, della memoria e della solidarietà. Sarà la borsa merci di Arezzo ad ospitare sabato 27 maggio il convegno regionale, l'evento conclusivo del progetto Testimoni di Pace promosso dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. Questa è una sintesi. La sintesi viene fatta anche a livello regionale. Noi abbiamo avuto la fortuna che la sede però di fare questo testimonio, questo convegno, è stata scelta la sede di Arezzo che a noi ci ha fatto veramente inorgoglire. La giornata segnerà la conclusione del ciclo di laboratori promossi negli ultimi mesi dall'Associazione Nelle Scuole e farà affidamento sulle parole di docenti universitari e testimoni dei conflitti di ieri e di oggi. Noi abbiamo fatto 19 laboratori con cui abbiamo partecipato a 26 classi con 6 scuole e abbiamo avuto a contatto con 600 ragazzi. E' stato spiegato quello che è successo a noi in modo da dire che a loro non debba succedere quello che ci è successo. E sono stati molto attenti. Tra i momenti più attesi la testimonianza del 25enne Nicola Marzolino, consigliere nazionale, presidente dell'Associazione Torino, che nel 2013 perse la vista e una mano a causa dell'esplosione di un ordigno inesploso della Seconda Guerra Mondiale rinvenuto nel giardino dietro alla sua abitazione. Le bombe inesplose sono, pensate un poco, 60.000 bombe inesplose all'anno. Quindi è una cosa molto importante. Certamente non è che siano tutte esplose. Alcune sono esplose nel far del male alle persone che le toccano, ma ci sono anche delle bombe che rimangono ferme, che vengono bonificate. Parliamo ancora di resistenza e di liberazione perché proprio domani, 25 maggio, verranno ricordati i fuochi dei partigiani. Un incontro con gli studenti per rievocare l'avvenimento storico dell'accensione dei fuochi sui monti dell'Appennino Toscano avvenuto durante la lotta della resistenza a retina contro la dittatura e la barbarie nazifascista, ad ospitarlo il palazzo della provincia di Arezzo organizzato dall'Ampi. A distanza di 79 anni da quello straordinario episodio, in 16 località delle montagne del territorio aretino saranno accesi per un'ora, a partire dalle 22.15 del 25 di maggio, dei fari, a ricordo di quella particolare vicenda. Allora, noi rievoqueremo quello che è successo il 25 maggio del 1944, la sera alle 21.15, che oggi con l'orario legale diventa alle 22.15, e accenderemo invece dei fuochi, ovviamente, dei potenti fari in 16 punti della provincia, partendo da Cortona, quindi dalla parte cortonese, passando per la Valtiberina, Casentino, l'area aretina, la Valdichiana e la parte del versante Valdarno-Fiorentino e aretino, questi potenti fari a rievocare queste grandi masse di accensione di fuochi che furono proiettati quella sera. Nel corso degli anni, grazie alla ricerca storica, si è scoperto l'armadio della vergogna, ormai si parla al fine degli anni 90. Lo studio dell'armadio della vergogna, si sta parlando di migliaia di fascicoli occultati dallo Stato nella Procura Militare della Repubblica presso via dell'Acqua Sparta numero 2 a Roma, ha permesso di sviscerare le ragioni che stanno dietro a moltissimi massacri compiuti dai nazifascisti in tutta Italia, anche ovviamente compresa la provincia di Arezzo che purtroppo vanta un triste primato in questo senso. Ebbene, spesso dietro molte stragi di civili innocenti tra i 14 e i 92 anni, a volte anche di donne e bambini, si è avuta la responsabilità di una regia di preparazione di questi massacri che non sopraggiunge da due o tre giorni prima a episodi relativi avvenuti due o tre giorni prima, ma avviene con una preparazione di base molto chiara e dettata da una strategia, la cosiddetta strategia del terrore, innescare terrore nei riguardi dei civili per poter poi fiaccare la resistenza e le locali comunità. 18 spettacoli nella rassegna di fine e corsi del Libera Accademia del Teatro di Arezzo il mese di giugno della storica scuola cittadina sarà, come da tradizione, scandito da un nutrito calendario di saggi che accompagneranno tra commedie e tragedie, tra teatro tradizionale, teatro in musica, tra elaborazioni originali, omaggi ai grandi autori del passato, quali Shakespeare, Pilandello e Goldoni, appunto, i saggi di fine anno. Il titolo di questa rassegna sarà proprio Notte prima dei saggi. Si svilupperà attraverso un totale di 14 serate, tra sabato 10 giugno e giovedì 29 giugno saranno messe in scena sul palcoscenico del Teatro Pietro Aretino con doppia replica alle 19 e alle 21 e 30. Adesso siamo invece allo sport, finisce 1 a 1 l'ultimo incontro delle ragazze dell'Arezzo Calcio Femminile contro il Ravenna, ma è stata una partita davvero particolare. Sentiamo perché nel prossimo servizio. Prima del fischio d'inizio, un abbraccio nel segno di solidarietà verso l'Emilia Romagna alluvionata. Si è aperta così la sfida comunale tra l'Arezzo Calcio Femminile e il Ravenna Woman. Non è facile per nessuno andare in giro nel fango perché poi si acqua, fango, mobili, case, macchine, motori, animali. Insomma è un vero disagio allucinante ed è tutto marrone e verde. Tutte le ragazze a Maranto sono entrate in campo con una maglia speciale per l'Emilia Romagna. Grazie alla quale si possono raccogliere dei fondi, quindi noi abbiamo contribuito facendo l'acquisto per tutta la squadra e promuovendo questa iniziativa. Mi sembrava giusto e doveroso farlo perché lo sport a volte magari dà anche un minimo di sollievo in questi momenti di grandissima tristezza. La partita all'ultima di campionato tra le mura amiche del città di Arezzo si è conclusa in parità. Al gol di Elisa Mariani al 74esimo ha risposto Gnisci al 92esimo. Ci tenevo particolarmente per le ragazze, ci tenevo per la società, ci tenevo per tutte a chiudere questo campionato cercando di fare più punti possibili e perlomeno chiudere l'ultima partita di questa stagione per l'Arezzo in casa nel miglior modo possibile. Le ragazze hanno fatto una buona partita, non era facile, comunque se abbiamo giocato di martedì non eravamo abituati, siamo stati un po' fermi, tante motivazioni però alla fine le ragazze hanno fatto la gara, non abbiamo subito praticamente niente a parte quel calcio di rigore e poi abbiamo fatto anche un bel gol e credo che alla fine bisogna essere contenti di questa stagione per questo grande risultato finale e per questo risultato anche di oggi che alla fine ci ha portato a 30 punti e credo che sia alla fine dei conti un risultato importante. Le Amaranto sono già certe della permanenza in Serie B da due turni. La stagione si chiuderà domenica 28 maggio sul campo della Lazio, formazione ancora in corsa per il primato. Un bilancio comunque positivo per noi perché è una categoria tutta da scoprire e devo dire che la Serie B ha dimostrato di essere veramente una categoria importante e siamo consapevoli di un qualcosa che ci permetterà di fare meglio il prossimo anno. Casa Tevenin festeggerà le ragazze della primavera dell'Arezzo Calcio Femminile per la vittoria del campionato e la promozione in Primavera 1 martedì 30 maggio presso i locali del CAS di Agazzi. Le giovani calciatrici saranno le ospiti d'onore della cena organizzata dalla Fondazione di Via Sasso Verde. Nell'occasione la società Amaranto premierà le ragazze per lo straordinario risultato ottenuto che corona appunto una stagione davvero molto molto positiva. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio con i nostri programmi. Grazie per l'attenzione e arrivederci.